Dobbiamo fare tante cose prima del matrimonio di tuo fratello? Mi dispiace solo che non conosco la sua fidanzata. Non è buffo? Andavate tutti a scuola insieme? Andavamo tutti a scuola insieme. No! Mio fratello sta per sposare la ragazza che mi ha rovinato la vita. Che scemo! Eri più carina con la maschera. Sei tu il capo. Non c'è niente di cui aver paura. Ruggi, guggi! Per te è stato diverso, mamma. Dici. Una ragazza mi ha reso la vita un inferno al liceo. Sia Molly, lei è la mamma di una. Dei? Ramona, quanto tempo è passato? Beh, non dirlo, dovrò strangolarti. Il liceo è stato un horror e questo weekend è il sequel. È stata capitano delle cheerleader? Sì! Trello potere! Reciti alla perfezione il ruolo della santarella. Ah, allora la gattina grattina. Questo weekend è un disastro. In punizione, in camera vostra. Non ce l'ho fatta a lasciarmi tutto alle spalle. Sei umana. Sbagliare fa parte della vita. Quello che conta è come rimediamo gli effetti. Hai avuto un sacco di ragazzi, vero, Gioanna? Tim! Ridammi il tuo numero, risultava sempre bloccato. 555-0172. Mi trovi anche su Facebook e su Twitter. Ancora tu.